Non una bocciatura ma una richiesta di chiarimenti. La Commissione europea ha scritto all'Italia dopo l'invio della bozza di una legge di bilancio che, secondo Bruxelles, potrebbe non rispettare i parametri europei. Per l'Italia il problema quest'anno si chiama spesa, oltre al debito pubblico, ovviamente certificato al 138% del PIL dall'Eurostat. I commissari Pierre Moscovici e Vladis Dombrowskis nel dettaglio puntano il dito contro il saldo del bilancio strutturale, volgarizzando la differenza tra entrate e uscite dell'amministrazione pubblica che cala di meno 0,1% del PIL nel 2020 anziché salire dello 0,6% come era richiesto. Viene inoltre considerata troppo alta la spesa a un più 1,9%. Il governo italiano risponderà in un giorno a Bruxelles ma il clima tra le due capitali, come ha sottolineato il commissario Moscovici, è disteso. Il primo ministro Giuseppe Conte intanto ha già fatto notare a Bruxelles che il debito scenderà insieme allo spread, aggiungendo che tutte le risposte comunque arriveranno in tempo. Unico timore del primo ministro è il boicottaggio parlamentare. Rispetto le Camere ma serve responsabilità, ha detto Conte. Una lettera analoga è stata inviata anche alla Francia che non ottempera l'obiettivo di riduzione del debito e a Belgio, Portogallo, Spagna e Finlandia per richiami minori.